L'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. L'estate sta finendo e un anno se ne va, cantavano così che era all'inizio degli anni 80, ma San Benedetto l'estate è ancora viva, spiagge piene, strutture recettive piene e siamo andati a sentire un po' la gente, i turisti cosa ne pensano della città di San Benedetto del Tronto. In vacanza a San Benedetto cosa vi ha spinto a scegliere la rive delle palle? La moglie. Veniamo qua, posto stupendo, si mangia benissimo, il mare è bellissimo, tutto accogliente, ci siamo trovati bene, ci troviamo in famiglia. Anche perché per la spiaggia per i bambini è indicata anche dai pediatri italiani come ideale per i bambini. Sì, è tutto quanto a misura di bambino e di famiglia effettivamente, è vero. La cosa che vi piace di più di San Benedetto? Il lungomare con le palme, bellissimo, mi piace molto. Anche la passezzata in città tutto sommato, sono accoglienti e tutto quanto, niente da dire. Perché avete scelto San Benedetto? Perché sono i miei suoceri, sono i miei suoceri da tanti anni e veniamo qua in villaggiatura. 20 anni. Cosa vi piace di più della città? Della città? Vabbè, abbastanza organizzata, il lungomare è bello, i giochi per i bambini ci sono quindi si sta bene. Si sta bene, si sta bene. Grazie. 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 Grazie.